Ben ritrovati a tutti carissimi amici, siamo qui all'approfondimento della Scuola del Sabato, siamo arrivati alla seconda lezione del terzo trimestre 2023 e il titolo della lezione è Il Grande Piano Divino Centrato su Cristo. Avete la Scuola del Sabato? Volete studiare in modo approfondito la Bibbia? Ve la potete procurare presso la nostra casa editrice Edizioni ADV, di cui trovate in sovrimpressione i riferimenti, oppure potete scaricare l'app che vedete sempre qui indicata dove troverete la Scuola del Sabato in formato digitale. È importante averla perché in questo modo potrete giorno per giorno studiare la tematica secondo i suggerimenti che sono indicati. Quindi nel lezionario trovate dei testi biblici che vi sono sottoposti all'attenzione per quel giorno particolare con alcuni commenti. E poi il sabato potete recarvi presso una delle nostre comunità avventiste e potete entrare in un piccolo gruppo e ascoltare i commenti e anche voi dire la vostra sul tema. Ma sarà sicuramente un bel arricchimento. Noi oggi qui abbiamo un piccolo gruppo. Io mi sono trovata qui con delle persone, dei cari amici, che vi voglio ricordare perché sono già stati con noi la volta scorsa. Abbiamo Tamara Pispisa. Benvenuta Tamara. Grazie Maria Rosa, ben trovata. Grazie a te. E abbiamo il pastore Richard Eustu. Benvenuto Richard. Buongiorno, grazie Maria Rosa. Grazie veramente. Grazie a voi per essere qua in modo che possiamo condividere i nostri pensieri. Siamo un piccolo gruppo della Scuola del Sabato, anche noi in fondo. Allora, prima di cominciare lo studio di questa settimana, volevo chiedere a te Richard se ci riunivi in preghiera. Ok, preghiamo. Signore nostro Dio, ti ringraziamo per questo grande privilegio di essere qui, in questo gruppo, per poter aprire la tua parola. In questo trimestre hai da dirci tante cose attraverso questa lettera agli Efesini. Signore, scendi tra di noi, insegnaci tu, facci capire il significato di questa lettera per la nostra comunità, ma soprattutto per noi personalmente. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Grazie Richard per aver pregato per noi e con noi. Allora, prima di passare alle domande che ho preparato per voi, volevo chiedervi qualcosa di più sulla vostra esperienza. In particolare, la volta scorsa avevo presentato Tamara dicendo che sei docente presso la Facoltà Adventista di Teologia a Firenze, Villa Aurora. Però la tua passione è stata da sempre la sociologia, oppure è nato ad un certo punto questo amore per questa materia? No, è stata una scoperta che è venuta dopo, perché inizialmente io avevo fatto il liceo scientifico e mi sono iscritta all'università, ma, indovinate a cosa? A matematica. Quindi era proprio tutta alta strada. Tra l'altro proprio a Firenze mi trovavo ancora. Poi invece ho visto che non ingranava e poi l'idea, quindi sicuramente una difficoltà iniziale rispetto a questi esamoni, per chi conosce le materie analisi 1, analisi 2, e poi l'idea di stare dalla mattina alla sera, a me piaceva matematica, tuttora se mia figlia mi chiede di aiutarla in qualcosa, per matematica ne piace, vengo io. Però l'idea di farla dalla mattina alla sera, alla fine ho detto, ma è questo davvero che voglio fare? E quindi quando poi sono andata a vivere a Roma, sociologia è stato quasi un incontro per caso, e poi è diventata invece la mia grande passione. Grazie Tamara, così piano piano ci conosciamo anche meglio, no? E tu invece Richard, il tuo percorso di studi, come è nata questa passione per la teologia? Infatti la teologia è venuta dopo, perché io mi sono laureato in ingegneria. Ah vedi, allora c'è un altro ambito. Un altro ambito, lavorando infatti strada facendo, attraverso la Chiesa, mi è venuta questa vocazione, ma soprattutto sono stato spento da alcune persone, tra cui Ted Wilson. Ah ho capito, quindi lui ha visto diciamo che magari tu potevi... Sì, perché frequentavamo la stessa Chiesa, lui era segretario della divisione e a Bijanna, nella mia Chiesa, è lì che frequentava la Chiesa con sua moglie e i suoi figli. Quindi mi ha conosciuto lì e mi aveva dato anche la borsa di studio per fare la teologia. Per poter studiare. Tra l'altro tu quando sei venuto poi in Italia sei stato impiegato come pastore, no? Sì, questo è venuto dopo, perché io sono venuto in Italia come studente. Avevo studiato a Valley View University in Ghana. Devo approfondire questi studi, però ho pensato di lasciare, perché non mi sentivo essere un pastore. Non credevo di essere un pastore. Invece questa passione è stata consolidata proprio in Italia. Ho capito. E quindi la tua prima comunità qual è stata? Io sono arrivato in Italia attraverso Palermo. E da Palermo, infatti, da Palermo organizzando... Cioè aiutando la comunità di Palermo a organizzare questa comunità ganese e piano piano l'Unione mi ha dato un'altra borsa di studio di studiare a Villa Aurora per completare il ciclo e poi subito mi hanno assunto. Ho capito. E quindi hai viaggiato tanto, no? Sei da Palermo, poi... Questo qua, mamma mia, è un mondo. Perché sono stato assunto e poi l'Unione mi ha chiesto... Mentre ero a Villa Aurora, l'Unione mi ha chiesto di organizzare le comunità ganese perché non esisteva... Tranne quella di Palermo che abbiamo costituito nel 1996, non esisteva più altre comunità. Invece c'erano gruppetti al nord, quindi l'Unione mi ha dato questo incarico mentre ero ancora studente di costituire questi gruppi. Quindi è partito così. Giravi di qua e di là come una trotola, sicuramente. Sì, 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 veramente. Allora stavo pensando che forse anche nella città di Efeso c'erano tante persone che giravano, viaggiavano perché abbiamo visto l'altra volta un po' il contesto di questa comunità, cioè di questa città dove si trovava la comunità dei credenti e quindi c'erano tante persone che venivano un po' da loro, venivano e andavano e così via. Andavano, viaggiavano, no? E quindi tante vite che si incrociavano, che cambiavano direzione e hanno trovato molti sulla loro strada dei credenti che hanno parlato loro di Cristo. Giusto. In particolare l'Apostolo Paolo che lui stesso viaggiava tanto e si è trovato a dare la sua testimonianza di vita, insomma. Bene, grazie che ci siamo conosciuti un po' meglio Adesso passiamo alla prima domanda che ho preparato. In realtà volevo partire da un suggerimento che troviamo proprio nella parte introduttiva della Scuola del Sabato. C'è la storia di Neil Armstrong che è stato il primo uomo a camminare sulla Luna e per camminare sulla Luna lui indossava una tuta spaziale che era stata progettata da un'equip creativa e la Scuola del Sabato appunto racconta questo aneddoto, no? E mi ha colpito il fatto che lui ringraziò il team che aveva realizzato la tuta perché riconobbe che quella tuta l'aveva protetto era anche una tuta comoda quindi ha espresso un ringraziamento molto singolare facendo le congratulazioni a questo team per la sua creatività e bravura. Però mi ha colpito che questo ringraziamento lo fece dice la Scuola del Sabato 25 anni dopo l'evento, no? E riflettevo su due cose Allora, innanzitutto l'importanza di ringraziare, no? Però anche come a volte noi abbiamo difficoltà a ringraziare o anche solo a fermarci per renderci conto di che cosa abbiamo le cose per cui noi abbiamo da dire grazie, no? E magari Neil Armstrong si sarà seduto forse a scrivere un libro oppure, non lo so, non racconta bene l'aneddoto della Scuola del Sabato in tutti questi dettagli, no? Però ci pensavo, no? Forse noi abbiamo bisogno di sederci di metterci un attimo tranquilli e oggi si cuore tanto quindi è un po' difficile Ritorniamo un attimo su questo infatti volevo farvi una domanda proprio su questo però volevo leggere prima quello che dice la lezione sul fatto che Paolo inizia la lettera agli Efesini proprio con una nota di ringraziamento formidabile viene descritta, no? Questa nota di ringraziamento per tutte le benedizioni che Dio ha elargito che sono benedizioni, dice il lezionario fondamentali per l'esistenza per il senso della vita, no? Proprio come un po' questa tuta spaziale per Neil Armstrong Allora, io pensavo non possiamo leggere tutti i versetti però andando al capitolo 1 i versetti da 3 fino a 14 sono proprio descritti dei doni delle benedizioni c'è una lunga lista in cui l'Apostolo ringrazia Dio 1 è il testo chiave il versetto 3 è il testo chiave della lezione Benedetto sia Dio il Dio è Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo e poi continua, no? Cioè, si parla di un'elezione si parla di questa elezione prima della formazione del mondo perché fossimo santi e reprensibili di una predestinazione al suo amore se voi seguite in questi versetti fino al 14 dice che ci ha adottati per mezzo di Gesù come suoi figli che ha un disegno benevolo una volontà benevola nei nostri compronti dice che ci ha dato la sua grazia in Cristo ci ha redenti col sangue di Cristo ci ha perdonati ha riversato ogni tipo ogni sorta di sapienza e intelligenza cioè è proprio veramente abbondante e ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà qua bisognerebbe passarci un trimestre intero solo per analizzare questo testo biblico vedere i termini nella lingua originale cercare di capire un pochettino di più c'è il discorso dell'eredità c'è il discorso concludo perché ci sono tanti elementi ma non volevo lasciarmi passare sotto gli occhi quello che dice al versetto 13 c'è un sigillo dello Spirito Santo che è pegno della nostra eredità una specie di caparra allora ecco io vi volevo chiedere quale Richard e Tamara di questi doni vi tocca più il cuore cioè per la vostra esperienza la vostra vita e chiedo lo stesso da casa chi ci segue da lontano pensate anche voi leggendo questo primo capitolo i versetti da 3 a 14 tutte queste benedizioni qual è quella più vicina al vostro sentire di cui proprio cioè quando la leggete sì sono tutte importanti però dice questa proprio mi tocca mi commuove che cosa chi comincerà prima fra voi io posso cominciare perché già sono emozionato da questo tema Paolo fa questo allenco dei doni che abbiamo ricevuto dal Signore riflettendo dal mio passato poco fa ti l'ho detto da ingegneria a pastore cioè da ingegnere a pastore da da uno che aveva un temperamento così caldo a una persona adesso con un temperamento freddo così cioè non riesco a capire me stesso però l'adozione è un dono che mi colpisce mi colpisce perché quando cerco di riflettere del mio passato fino al mio arrivo in Italia fino oggi non smettere mai e non finire mai a ringraziare il Signore di questo cambiamento io ho avuto la fortuna quando sono arrivato in Italia ho avuto una mamma italiana una mamma che subito dopo la mia entrata in chiesa aveva un figlio che si chiama Riccardo questo ragazzino morì a mio arrivo allora la mamma mi disse tu sei Riccardo io ti chiamerò Riccardo è stato così una mamma che si trova nella comunità di Palermo mamma Maria Signore Tiuri benedica è lei che in quei anni mi ha sopportato mi ha aiutato in diversi modi ha aiutato anche mia moglie in diversi modi e poi aveva un altro papà Liborio Lombardo qualcuno conosce questo nome che in diversi modi mi ha aiutato nelle momenti difficili ad un certo punto ho voluto andarmene via dall'Italia perché come dicevo prima non avevo intenzione di diventare pastore no io sono arrivato in Italia con l'augurio di continuare i miei studi non in Italia perché non volevo studiare in italiano volevo andare altrove però Italia mi serviva come un transito invece arrivo qui trovo questi due fratelli di chiesa e direi che mi hanno incoraggiato ad un certo punto mi ricordo del fratello Liborio che disse Richard se tu non vuoi diventare pastore io ti aiuto per andare a studiare altrove ho fatto tutto 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 però alla fine non è stato possibile non potete immaginare quante volte ho provato di prendere diverse visti per andare fuori non è stato possibile fino a quando mi ricordo ho ricevuto una lettera dall'Unione Italiana che mi disse di venire a Villa Aurora ho detto no no non volevo sapere non volevo sapere perché sapete qualcosa io sono venuto in Italia scappando dalla vocazione è stata così e arrivando in Italia non credevo trovare anche tanti ghanesi qui tante persone che mi conoscevano purtroppo arrivando nella chiesa di Palermo c'era uno proprio che veniva da Costa d'Avorio della mia chiesa vedendomi disse pastore Richard non volevo girarmi non volevo sentire insisteva quando mi sono girato vedo questo fratello che conoscevo bene sì allora tutti gli altri ragazzi hanno detto ma lui è pastore sì è pastore ho detto io no però piano 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 quando mi sono trovato a Villa Aurora con pastore Giovanni Leonardo Vittorio Fantoni e c'era un altro delfante Alessio questi fratelli io li chiamo oggi fratelli erano i miei insegnanti professori ma mi hanno cambiato mi hanno cambiato e cambiandomi piano piano sono a parte del fatto che Dio mi ha adattato comprandomi acquistandomi riscattando arriverò a quel tema anche la chiesa in qualche modo mi ha adottato sì un'adozione che è passata da Dio attraverso anche tante molto bellissimo molto bellissimo quindi ringrazio il signore per questo ringrazio il signore per questo anche noi ti ringraziamo per aver condiviso la tua esperienza e a te Tamara c'è qualche elemento di questo brano nel primo capitolo che ti tocca in modo particolare a me piace molto quando lo leggo e lo rileggo gli ultimi versetti quando a un certo punto parla del sigillo che è caparra questo sigillo dello spirito noi abbiamo la caparra c'è stata data la caparra mi piace questa immagine perché in genere con la caparra noi fissiamo la fermiamo quindi nessuno la potrà prendere più quindi il fatto che noi abbiamo ricevuto la caparra mi dà proprio l'idea il signore mi ha mi ha fissato lì adesso deve solo venirmi a prendere ma ci sono sono del gruppo mi dà un po' quell'idea e poi un altro elemento la caparra è l'inizio sono quei soldi per fermare la casa per esempio per poi dare l'ammontare complessivo quindi io dico questo è solo l'inizio tutto ciò che io avevo adesso è solo l'inizio di ciò che Dio mi vuole dare ancora adesso quindi questa idea di uno spirito che vuole lavorare ogni giorno in noi è di quello che mi sta preparando quindi in questo senso mi dà una gioia immensa c'è un timbro eh sì allora c'è in quello che tu dicevi c'è anche un senso che si trova nell'epistola del già e non ancora come diceva un famoso teologo no di questa dimensione che già è realizzabile e percepibile è possibile viverla sentirla sulla pelle già adesso ed è solo l'inizio solo l'inizio a me in tutto questo brano ci sono diverse cose però dico anche io poi appunto invitavo anche chi ci segue da lontano a cercare in questo brano la benedizione per cui potete ringraziare il Signore io devo ringraziare mi piace vedere in questo testo come questo mistero di un Dio che aveva un progetto in cui già io c'ero prima della fondazione del mondo non ci posso credere io che sono nata nel 1970 e uno potrebbe dire vabbè tu sei nata nel 1970 dopo Cristo però non è iniziata lì la mia vita ero già nella mente del Signore e faccio parte della sua famiglia e questa cosa qui per me è fuori dal mondo proprio come comprensione eppure è questa persino prima perché dice prima della fondazione del mondo prima che il peccato entrasse nel mondo c'era un disegno perché io potessi essere all'interno della famiglia di Dio quindi è una cosa che mi sconvolge non riesco ad afferrarla con la mente allora dicendo queste cose su questo impulso di gratitudine con cui Paolo veramente comincia e ci mette questo carico di passione di come posso dire quando si ringrazia per queste cose è come se tu prepari un'atmosfera meravigliosa per quello che poi seguirà nella lettera no? però riflettevo anche del fatto che come dicevo prima sulla tuta di Armstrong come mai però non sempre noi oggi ci prendiamo questo bel tempo per fare dei ringraziamenti come lui si è profuso in questo capitolo no? a volte noi neppure ci rendiamo conto in questo tempo così di corsa no? quindi la cultura delle persone del ventunesimo secolo qual è? è facile o è difficile oggi ringraziare? cosa ne pensate? nella forma potrebbe essere anche facile cioè noi siamo sollecitati no? sin da piccoli no? ti ha dato che ne so la caramella qualcuno grazie no? quindi nella forma sicuramente siamo portati a una a una sorta di gentilezza che però può diventare una una formalità esatto una formalità no? ma noi a volte mi viene di pensare rispetto alla tua domanda che forse non diamo tante cose per scontate sia di quello che abbiamo anche a casa sia anche delle persone che lavorano per noi no? io facevo questa riflessione sui genitori no? per esempio di tutto quello che fanno no? se io ricordo mia madre no? alla fine noi tre figli quello che faceva dalla mattina alla sera lo comprendo l'ho compreso dopo no? per certi versi lo davo per scontato io mi alzavo poi tornavo poi era pronto avevo il cibo avevo la roba lavata no? avevo questo privilegio non tutti magari in famiglia hanno questa possibilità però lei veramente si è spesa si è dedicata per noi in ogni modo però ecco oggi ho la piena consapevolezza di che regalo sia stata quella sua disponibilità che mi ha permesso di studiare a pieno tempo che è anche una cosa che non tutti possono avere no? di dedicarmi ad approfondire quella che poi è diventata la mia professione ed è grazie sicuramente a questo impegno grazie a questo e quindi a volte ecco diamo delle scontate alle cose finché poi quando non ci sono ci rendiamo conto di quanto facciano la differenza questo è un aspetto grazie e poi io trovo che per esempio io vado tanto in fretta per esempio quando faccio i corsi di formazione vado in una comunità c'è chi mi aiuta a volte non ho il tempo materiale perché finisce il corso uno deve scappare allora poi mando un messaggino però magari poi non l'ho mandato a tutti è difficile è difficile proprio anche se uno ha l'impulso e ha il senso della gratitudine però riuscirlo a trasmettere riuscire ad avere proprio il tempo anche per ponderare delle parole che siano di ringraziamento non è facile bisogna magari anche sedersi e riflettere ed è un po' dura oggi no? è dura è dura perché la società odiena presenta tante cose ci sono tante cose in giro e spesso non abbiamo tempo a fermarci questo è una cosa che succede quindi non 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 riconosciamo ciò che riceviamo non riconosciamo le cose che le persone ci danno e per questo motivo non non troviamo il momento giusto per dire grazie a qualcuno perché abbiamo tante cose in giro tanti problemi quindi pensando di regalare o dare qualcosa aiutare qualcuno la persona il suo problema non è quello che sta rispondendo forse quello che hai fatto pensi di avere corrisposto a qualcosa invece per lui non è niente quindi non trova le parole e poi non abbiamo noi stessi non abbiamo tempo come sta dicendo stiamo sempre correndo allora sai che cosa facciamo ricerca voglio suggerire a me stessa ma anche a tutti noi che siamo qua ma anche a voi che ci seguite da lontano e perché non ci fermiamo un attimo giusto e approfittiamo della lezione di questa settimana per esprimere un ringraziamento lo potremo proprio scrivere come ha fatto l'apostolo iniziando una lettera una lettera dove ci sono prima di tutto dei ringraziamenti quindi a chi siamo grati perché diciamolo diciamolo esprimiamolo prendiamoci il tempo per riflettere potrebbe essere qualcuno con cui viviamo un membro della nostra famiglia dal più piccolo al più anziano potrebbe essere un vicino di casa potrebbe essere una persona che abbiamo incontrato che ci ha aiutato in qualche cosa allora possiamo forse costruire una giornata giornata di ringraziamento gli americani ce l'hanno quindi anche noi come comunità possiamo farlo in alcuni casi l'abbiamo fatta infatti è stato molto bello proprio perché finalmente ti fermi e inizi a guardarti intorno e a capire che ci sono comunque nonostante tutto tanti motivi per cui ancora puoi ringraziare però possono venire veramente delle benedizioni prima di tutto su di noi penso anche all'apostolo fermandosi in quel momento difficile perché lui poi ringrazia e l'oda ma era in prigione dicono che questa lettera sia stata scritta proprio in attesa del processo quindi sono momenti anche dove cosa c'è poi da ringraziare eppure prendersi tempo e sedersi e riflettere per conoscere e mi aveva colpito anche che avevo letto una diciamo dichiarazione di un famoso comico romagnolo che qualche settimana fa parlando dell'alluvione in Romagna diceva che i romagnoli finiscono sempre con cioè dicono quello che non va però dicono sempre alla fine però c'è sempre qualcosa di positivo di bello anche nei momenti più difficili come quello che viveva l'Apostolo Paolo trovare la forza di vedere il bene e il buono che c'è perché magari c'è qualcuno che ci sta aiutando c'è qualcuno che ci sta sostenendo anche in situazioni molto dure dove è difficile dire grazie però ci fa del bene proprio a partire da noi e un altro aspetto che volevo proprio diciamo sottolineare è la dimensione non solo del ringraziamento come gratitudine ma la lode a Dio che è proprio in questo brano fortissima no l'autore parla parlando di questa lode sottolinea quello che può succedere in una vita perché l'oda a Dio perché vede la capacità di trasformare no di portare avanti un po' anche la tua esperienza no quando lasciamo che Dio ci conquisti quando lasciamo che Cristo sia il capo supremo della nostra vita all'interno della nostra comunità no e volevo leggere solo alcuni testi da questi capitoli di Efesini non li possiamo leggere tutti ma almeno due al capitolo 3 versetto 21 dice quindi proprio una frase meravigliosa un solo Dio dice poi in Efesini 4 versetto 6 lo loda perché è un solo Dio padre di tutti al di sopra di tutti fra tutti e in tutti cioè non riesce neanche a non ci può definire non ci può chiudere sì però lo loda per questa sua capacità di essere così puntini puntini no grande presente ed è una cosa meravigliosa perché nella parte di giovedì poi della scuola il sabato c'è quello che era piaciuto anche a te che c'era nel primo capitolo lo spirito santo come caparra no e sigillo e caparra quindi lodare Dio perché lo spirito santo con il suo sigillo come caparra fa una differenza nella nostra vita ma in che modo nella chiesa questo sigillo dello spirito fa una differenza cosa succede in una comunità quando la comunità riceve il sigillo dello spirito e come si può ricevere questo sigillo cosa ne pensate il sigillo come diceva Tamara prima no è una conferma che tutti assicurato per il futuro quindi una cosa molto interessante una chiesa che vive questo sigillo si vede nel suo modo di fare Paolo parla di lode la lode è una cosa bellissima va bene una persona triste una persona angosciata le vediamo il suo modo in cui cammina in cui fa le sue cose una chiesa che vive la lode del signore che manifesta di riconoscere questa caparra che il signore ha fatto per lui o lei vive una vita convogente quindi la lode diventa una cosa convogente non è una cosa timida diventa vivace la comunità è vivace nei canti nel preghetto in qualunque cosa perdonatemi sono africano tipicamente va bene a volte quando vado in una comunità dove tutti silenziosi una volta una volta mi trovai un villaggio in canada aliphas proprio kebreden dove ho passato ho trascorso un sabato in quella comunità una comunità in cui in quel momento mi sembra che i più giovani di quella comunità se posso ricordare i più giovani avrebbero 50 più di 50 anni più giovani quindi possiamo vedere che erano persone adulte invece di un'età avanzata potete immaginare i canti io entro lì stavano cantando what a friend have in Jesus abbiamo invece il modo in cui cantavano io torno ad un certo punto da africano non riuscivo quindi ho fatto un segno fermatevi sono passato davanti ho chiesto al pianista di cambiare un pochino i tastieri quindi ho alzato un pochino poi ho cominciato a dirigere mamma mia tutto è cambiato gioiosi alla fine l'anziano di quella comunità mi chiese ma chi sei da dove vieni ero studente a Newbold quindi infatti sono andato in vacanza così ho detto sto studiando a Newbold anche io anche io sono stato a Newbold però oggi sono stanco invece voi giovani dovete venire qua cioè la lode è un modo convogente di adorare il Signore con tutto il nostro essere non quello di essere timidi a volte a volte angosciati a volte possiamo coinvolgere se magari qualcuno non ha in quel momento uno stato d'animo oppure a mancanza di mezzi possiamo aiutare in cielo tante volte le persone hanno bisogno della spinta cioè l'odare il Signore con gioia con sorriso a volte d'africano muoversi un pochino non fa male anzi salva guarisce quindi la lode secondo me deve essere una cosa convogente soprattutto grazie grazie allora noi abbiamo parlato della potenza dello Spirito Santo e l'odiamo Dio per questa potenza che ci cambia che ci aiuta dandoci questa garanzia del suo sigillo della sua caparra e a volte anche un credente potrebbe trascurare questa potenza nella sua vita e quindi è importante soffermarsi a pensare a questo elemento di benedizione e forse per questo che a volte non riusciamo a essere così gioiosi forse abbiamo ci siamo anche allontanati ci lasciamo trascinare dalle sofferenze oppure la sofferenza è talmente grande perché ci sono dei momenti dove la sofferenza è veramente grande la lode si esprime diversamente si potrebbe esprimere non come una gioia esteriore ma come un atteggiamento di costanza di resilienza per esempio però non è semplice ecco non è semplice l'importante è mettere al centro della nostra attenzione la presenza dello spirito altrimenti ci lasciamo diciamo deprimere ci lasciamo trascinare il problema non so mi viene un pensiero adesso così è che spesso nella nostra vita di chiesa i momenti riservati alla lode vengono vissuti in maniera talmente liturgica che è una cosa da fare nella scaletta allora c'è prima il canto poi c'è la preghiera è meccanica allora è vero che per una buona perché diciamo all'assemblea arrivi poi un momento di adorazione va organizzato quindi non sono per dire andiamo così all'impronta però è anche vero che ci deve essere una libertà di lasciarsi anche coinvolgere di riscoprire i testi perché magari appunto quei testi che sappiamo da tempo diventano ok ho fatto la strofa 1 la strofa 2 ho fatto la preghiera 3 e ora parte il sermone ma in tutto ciò la lode non mi sfiora di sopra non mi prende non mi solleva non mi nutre per la settimana non mi fa vedere le cose dal lato da cui le vede Dio mentre la lode ci dà questa opportunità di metterci a guardare le cose il Signore ci prende per mano dalla nostra tistezza siamo ricurvi e ci porta a vedere le cose come le vede Lui e quindi la settimana riparte con speranza e questo è il senso della lode altrimenti ci perdiamo e poi ci riposiziona se eravamo troppo orgogliosi ci fa riabbassare perché noi lo diamo Dio come capo se invece noi ci sentivamo zero ci solleva perché ci ricorda che siamo figli di Dio quindi c'è la lode ha una potenza quindi la sfida si riequilibra in base al bisogno però la sfida nelle nostre comunità è di aprirci alla lode ciò significa che dobbiamo essere pronti anche a dare qualche variazione alle scalette e sarebbe bello ok però adesso ci riscaldiamo e apriamo un capitolo interessante perché come conciliare il fatto che ci sono poi diversi stili di adorazione un pochettino a volte può essere la mancanza di una cultura della lode un'attenzione alla lode però a volte la maniera diversa di lodare è un elemento anche culturale quindi che cosa come conciliare quindi la diversità nell'adorazione fra culture diverse sì allora in realtà lo stavi sottolineando mentre lo dicevi noi dobbiamo prendere consapevolezza di questa cosa il modo in cui noi adoriamo è una si dice in gergo una costruzione sociale cioè dire un elemento culturale quindi non ha un valore assoluto ma è legato necessariamente al contesto in cui noi siamo cresciuti e vissuti e volevo fare un esempio giusto per comprendere per esempio quando noi pensiamo alla musica sacra in Europa pensiamo per esempio alle grandi cattedrale all'organo come il top della sacralità e se invece c'era proprio un pastore che aveva approfondito tutto questo tema della liturgia lui raccontava credo fosse all'epoca di Lutero Lutero aveva preso all'epoca non era l'organo l'organo dedicato alla musica sacra ma l'organetto era l'organetto che si suonava per strada quindi era quanto di più lontano da ciò che si poteva immaginare nelle cattedrali e molto vicino alle persone così nella quotidianità e prende questo strumento che poi ecco nel tempo diventerà il simbolo della sacralità allora questo che cosa ci fa capire se noi volessimo rimanere in questo spirito della riforma ci dovremmo chiedere ma oggi qual è lo strumento che trovo per strada come posso con questo strumento chiaramente portare verso una lode perché l'obiettivo comunque deve rimanere la lode altrimenti facciamo altro facciamo anche musica di evasione che può avere un suo perché ma non stiamo lodando Dio quindi rimane l'obiettivo di lodare ma le modalità nelle quali lo facciamo essere fermi essere in movimento se pensiamo a Davide come lo dava lui e nel momento in cui è stato richiamato perché sembrava inadeguato in realtà sembrava che avesse torto lei piuttosto che Davide quindi che è stato richiamato dalla moglie quindi in questo senso questo sguardo ci deve aiutare a capire che noi siamo abituati a fare le cose in un certo modo ma le cose si possono fare anche in un altro modo e in questo l'esperienza con i fratelli e sorelle che vengono da altre comunità avventiste da altri paesi del mondo è uno stimolo per noi riusciremo a raccogliere questa sfida come chiese italiane una bella domanda sì ma che cosa che cosa si deve fare bisogna incontrarsi parlarne bisogna osservare cioè da cosa nasce questo tentativo di conciliare nell'atto pratico perché possiamo dire ok noi ci rendiamo conto che nella nostra comunità abbiamo persone di nazionalità diverse no e quindi probabilmente nel loro background nella loro sensibilità hanno diversi modi cosa consigliereste ad una comunità che si trova in questa situazione cioè bisogna parlarne forse creare un momento di dialogo oppure il comitato dovrebbe porsi questo interrogativo bisogna forse prepararsi formarsi non lo so perché è difficile poter creare un confronto un cambiamento su delle cose che sono così legate alla cultura e magari anche care da potersene sganciare no sì ma magari ecco il punto è proprio questo rassicurare i membri che non si devono sganciare dal loro modo di adorare perché se io sono cresciuta con così qual sono e del canto che mi hanno dedicato al battesimo anche se è di 200 anni fa per me quello è stupendo cioè non posso rinunciare a questo il problema è essere accoglienti con altre modalità e non chiudersi all'idea che una cosa diversa dalla nostra non possa portarci anche a lodare intanto a vedere come lodano gli altri ora a livello operativo forse Richard potrebbe essere più pratico come diciamo colui che lavora nelle comunità come pastore però sicuramente potrebbe passare da un comitato di chiesa nel quale si riflette sul tema si fa un approfondimento anche teorico di confronto per capire come siamo stati abituati a lodare la nostra unione del resto ha diciamo da diverso tempo una commissione liturgia quindi una riflessione sicuramente sì ma poi anche vivere una giornata di loda interculturale dove ognuno racconta un po' di sé e in questo senso quantomeno va accolta la sua poi uno può dire sai io però non mi sento se ne alzo le mani così mi confondo non mi concentro vabbè ognuno se sono europeo che devo fare se sono africani se sono europeo cioè alla fine non è che dobbiamo chiedere agli uni e agli altri di cambiare ciò che noi siamo ma di avere uno sguardo non giudicante ecco forse la parola è questa non giudicante perché l'eresia non è dietro l'angolo in questi ambiti forse in altri ambiti che non vediamo diciamo io penso Maria Rosa penso che ci vuole la comunicazione nelle chiese ormai in Italia le nostre comunità sono da diversi anni comunità multiculturali vogliamo o no o no così però a volte manca la comunicazione Tamara ha parlato di giudicare i pregiudizi bloccano certe cose cioè noi dobbiamo superare andare oltre perché se noi iniziamo a comunicare soprattutto nelle comunità multiculturali se noi comunichiamo riusciremo a pressare i modi in cui alcune persone si comportano invece quando cominciamo a giudicare creiamo dei pareti dei blocchi e questo non ci permette di realizzare i sogni quelli che vogliamo fare io al nord una volta ho sentito da qualcuno che purtroppo non sapeva nonostante tutto ciò che tutti i movimenti che hanno fatto non sapeva che ero forse un pastore ero lì ma perché quando vai da alcune comunità africane ballano fanno questo ero lì alla fine cioè non volevo rispondere però Richard e Richard ho dovuto rispondere ho detto dove è il problema perché quel fratelli stanno ballando quale sorrere stanno ballando e che cosa stanno facendo dimostramelo eh sì è stato un coro sono stata una comunità stavano lì a cantare però facevano così ho detto che cosa chiama questo ballo o come una persona che si esprime che canta che si esprime la lode io vedo la lode come una una espressione di ringraziamento di ciò che abbiamo ricevuto dal Signore e se la persona lo fa così è contenta e gioiosa anziché stare no ringraziare il suo Signore Davide cantando saltava la parola che viene utilizzata significa ballando cioè dove è il problema quindi io penso che se noi riusciamo a comunicare tra di noi come hai detto tu se c'è una questione portiamo in comitato discutiamo in comitato cerchiamo di trovare i pros e i contro e poi troviamo la maniera per poter risolvere la questione perché se vogliamo convogliare tutti allora dobbiamo parlare sì anche perché sì magari uno potrebbe restare in una comunità senza esprimersi perché è una minoranza perché è venuto dall'esterno però sarebbe un peccato che magari questa persona non si sentisse a suo agio nell'esprimere un bisogno un desiderio no e tra l'altro questo tema va a toccare per esempio anche la differenza generazionale nella comunità i giovani i giovani che tante volte e vivendo in una comunità che ha una tradizione avventista molto forte quindi anche dei modelli di dosologia di liturgia sabbatica di un tipo molto definito no a volte il giovane come entrando in chiesa facesse un salto nella macchina del tempo non ritrova la propria cultura no e quindi anche lì sicuramente il giovane va aiutato a dialogare perché magari non è detto che il giovane senta proprio agio a esprimere con la sua voce come si sente magari non riesce neanche un adolescente a formulare il suo pensiero no ma si rende conto forse che qualcosa manca qualcosa non va e non si riconosce quindi questo dialogo probabilmente va creato vanno creato i momenti di ascolto e momenti anche di formazione di preparazione nella nostra chiesa grazie al servizio liturgia lo ha offerto questo lo sta facendo quindi diciamo che se ci sono state le occasioni ne possiamo trovare anche altre magari se non abbiamo approfittato allora volevo concludere perché siamo arrivati quasi alla fine del nostro tempo vi ringrazio non è sono degli spunti che noi mettiamo sul piatto e poi magari nelle comunità locali le persone potranno portare avanti oppure soltanto ascoltarci qui mentre ne parliamo e basta però per esempio potrebbe essere un bello spunto chiederti chiedermi ma io nella lode a Dio fatta insieme ad altri per esempio in chiesa nel giorno del riposo dove vado nella comunità come mi sento legato alla lode mi sento soddisfatto mi manca qualcosa cioè anche riflettere su su questo aspetto come pure nella nostra vita personale nella mia vita personale quando sono a casa mia do spazio alla lode a Dio e in che modo c'è nelle mie giornate nella mia settimana questa dimensione della lode perché potrebbe anche mancare no e quindi è importante comunque parlare di questi temi per interrogarsi che non devono mancare non per niente Paolo proprio comincia con questo andiamo proprio ad un ultimo accenno conclusivo al nocciolo della questione dove Alan Gentil che incaricato dalla facoltà ventista di teologia ha preso cura del nocciolo della questione riprende l'idea di un teologo tedesco Jürgen Moltmann e sottolinea proprio l'importanza del fatto che la teologia legata alla dossologia abbia la forma di una teologia dell'adorazione questa è una citazione un po' complessa che però se noi poniamo un po' di mente ci può fare riflettere perché dice che non riguarda solo quello che noi possiamo dire di Dio quando noi l'odiamo Dio pensiamo a come lui è a quello che lui ha fatto come appunto quando Paolo qua esprime tutte queste benedizioni parlando dell'azione di Dio ma riguarda vuole dire questo teologo la teologia dell'adorazione riguarda cioè come noi rispondiamo a questa grazia a quello che Dio ha fatto e rispondiamo nell'adorazione e anche nell'ubbidenza perché l'ubbidenza è anche adorazione quindi lo troveremo nella questa citazione vi consiglio di leggere il nocciolo della questione alla lezione 2 e poi nella parte di venerdì c'è Ellen White che dice Dio ha avvolto il mondo in un'atmosfera di grazia per cui appunto Paolo Loda nel primo capitolo che non è meno concreta dell'aria che circonda il nostro pianeta quindi Dio ha creato questa atmosfera di grazia e Ellen White dice che chi sceglie di respirare in questo ambiente vivificante vivrà si svilupperà fino a raggiungere l'ideale di maturità che Cristo ha annunciato e allora mi viene da chiedermi riguardo a questa atmosfera di grazia così indispensabile per la vita che aria attira nella mia vita o nella mia chiesa c'è questa atmosfera di grazia no e sicuramente è una domanda che ci dobbiamo fare e potrebbe essere importante nel gruppo della squadra del sabato senza prenderlo come un momento in cui esprimere critiche perché magari potrebbe darsi che non ci sia un'atmosfera di grazia no non è lo scopo quello di piangersi addosso ma piuttosto magari vedere come gruppo di poter pregare perché questa atmosfera diventi più forte cosa potremmo fare come gruppo cosa potremmo fare individualmente non so che cosa ne pensate cioè che aria attira nelle nostre comunità c'è questa atmosfera di grazia si sente cosa si potrebbe fare perché apriamo un po' le finestre no cambiamo aria in modo che l'aria della grazia circoli ecco quando io entro in una comunità dove prima di iniziare le lezioni e gli studi si crea dei momenti dei canti di preghiera ringrazio il Signore perché già c'è una motivazione le persone che cantano che ringraziano invece ci sono delle comunità le comunità in cui arriviamo ok scuola di sabato è iniziato preghiera e poi si divide nelle classi cioè la mentalità di scuola a volte i nostri giovani vivono questo questo problema cioè durante la settimana sono sempre di fronte a un professore un insegnante e poi arrivano in chiesa si ripete la stessa cosa oh distacchiamo qualcosa qualche minuto 15 minuti 20 minuti canti l'ode così per motivare le persone si trovano bene quando succede così se tu vai in diverse comunità americane ma anche africane questo succede quel momento tante persone vengono in chiesa per quel momento per l'assassin può sentire qualche canto di lode perché anche i nostri canti sono fa parte del ministero fa parte del culto la lode invece 9 e mezza preghiamo a Petroia squadra sabato introduzione posto fino 45 minuti ci sono anche altre altre comunità etniche che danno molto spazio alla lode e all'adorazione a volte il percorso che è stato fatto anche da una cultura un paese noi per esempio italiani eravamo un po' di grandi musicisti famosi in tutto il mondo però poi si è un po' perso nel corso del tempo è rimasta solo la notorietà di questa cosa ma abbiamo perso la io penso che dobbiamo avere questo spazio lì per l'odio durante la scuola sabato perché alla fine cosa facciamo finiamo la scuola sabato qualche pausa 5 minuti 10 minuti va bene culto uno va lì predica e poi alla fine dobbiamo probabilmente migliorare anche altre comunità magari hanno avuto nella loro storia nella loro formazione perché è decisa dallo Stato proprio una forte formazione musicale cosa che magari qui da noi in Italia non c'è quindi sono tante le cose che influiscono bisognerebbe trovare delle soluzioni a questo mi veniva un pensiero adesso su questa atmosfera di grazia l'atmosfera di grazia c'è ed è bellissima questa frase è stupenda però a volte o come la sensazione nelle nostre comunità che accada qualcosa simile a quando ci sono persone che ci raccontano di viaggi straordinari nel dettaglio e poi li hanno visti nei documentari cioè non sono andati loro a viverli ma te le raccontano proprio nel dettaglio con la minuzia che ha avuto poi il documentarista a raccontarle e tu li perlisi poi quando no no l'ho solo viste allora noi la sappiamo raccontare benissimo la grazia però a volte ho veramente la sensazione che non ci siamo tuffati in quest'acqua rigeneratrice che non abbiamo respirato quest'aria ho questa sensazione non è sempre vero per tutti perché in realtà se noi siamo in chiesa comunque qualcosa della grazia l'abbiamo presa se no non saremmo qua quindi non dobbiamo nemmeno però magari è pochissimo rispetto eh sì perché negheremo anche l'autenticità di tante nostre esperienze di fede non è neanche giusto però è minimo rispetto a quanto saremmo felici se comprendessimo pienamente e vivessimo questa atmosfera di grazia perché purtroppo il legalismo entra facilmente dalla finestra anche se noi lo mandiamo via dalla porta sempre ma rientra quindi deve entrare dalla finestra l'atmosfera giusta comunque e vi ringrazio adesso dobbiamo concludere avremo tante tante cose di cui potremmo parlare in questa scuola il sabato non è il nostro scopo neanche toccare tutti gli aspetti di giorno per giorno però concludendo nella parte di mercoledì dove si parla proprio di vivere nella lode della gloria di Dio siamo proprio chiamati a ricordarci che nella nostra vita c'è qualcosa di più prezioso per cui vivere ed è quella cosa per cui noi possiamo essere riconoscenti no? è proprio quella cosa quindi forse a volte si diventa anche avendo conosciuto alcuni concetti da tanto tempo potrebbero non sembrarci più così freschi così nuovi così reali e potremmo scoraggiarci no? quindi dobbiamo cercare un pochino di ricordare di ricordare nel popolo di Dio tante volte il Signore diceva ricordati e anche le feste erano fatte proprio per ricordare dei momenti speciali quindi anche inserire dei momenti di festa di ricordo possono alimentare la nostra memoria e la nostra non dimenticanza di quello che è la bellezza del Vangelo questa grazia molto bene ci fermiamo qua quindi per oggi abbiamo toccato questi punti li abbiamo solo accennati ovviamente vogliamo ringraziarvi per essere stati con noi ringraziamo Richard Deussu il nostro carissimo pastore che ci ha fatto compagnia oggi con le sue riflessioni anche te Tamara Tamara Pispis grazie mille e ti diamo appuntamento come anche Richard la prossima volta e vi abbracciamo tutti e vi ricordiamo che sul sito della Scuola del Sabato e Ministeri Personali potete trovare diverse risorse per lo studio personale di gruppo tra cui anche il sussidio del nocciolo della questione e vi ricordiamo anche di leggere le storie che sono inserite nel rapporto missionario del terzo trimestre che trovate appunto al link qui in sovrimpressione sono delle storie che danno allode a Dio per quello che lui ha fatto persone che in questi luoghi hanno conosciuto la grazia del Signore e altri che avendola conosciuta hanno deciso in questi territori di iniziare dei progetti speciali per diffondere questa lode questa gratitudine a Dio in modo che tante altre persone le possano conoscere e noi possiamo partecipare anche stando qui in Italia nella nostra città nel nostro paese dove viviamo possiamo partecipare con le nostre offerte a questi meravigliosi progetti di lode di adorazione vi ringraziamo vi salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo incontro arrivederci a Grazie a tutti.